Amici, oggi siamo alla Valle del Lupo dall'amico Felice, abbiamo mangiato benissimo, 17 gennaio siamo stati avvibbonati oggi e si mangia da favola e vogliamo dedicare all'amico Felice una bella tarandella, la tarandella non sarà a Dina e quindi le dedichiamo con tutto il cuore che faccia tante uova, vai Angelo vai! Grazie a tutti! Grazie!